Provincia di Rosario Arranca l'incontro L'incontro Sì, buonanotte! Sì, buonanotte! Sì, buonanotte! Salva la meta il arquero! Que buono! Del palo! Si, miro qui! Spicey! Io non ho posizioni! Spicey! È così che parezza facile! È così che parezza! 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 È così parezza! È così parezza! È così parezza! È così parezza! Arranca il nuovo football! Date con ilizio! É così parezza! Grazie! Bravo! Che c'è una buona chance! Grazie! Un tiro nella posizione! Un tiro! Unimo 10 segundos para l'escalso! 5, 4, 3, 2, 1... Se termina il primo tempo! Il risultato è 1 da 0! Un tiro! 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 Ero! Un tiro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.